Come trattare e curare sanguinamento uterino disfunzionale. Anomalo sanguinamento uterino, trattamento. È importante lasciare che il vostro medico se si dispone di anomalo sanguinamento uterino. Ci sono molti modi per aiutare trattarla. Il sanguinamento di solito può essere gestito con la medicina per ridurre il sanguinamento o terapia ormonale a uno interrompere o regolare i periodi mestruali. Il trattamento chirurgico è riservato per emorragia che non può essere controllato con la medicina o terapia ormonale. Acuta, grave sanguinamento uterino. Sanguinamento uterino grave è di solito trattato in caso di emergenza e con un breve ciclo di terapia con estrogeni ad alte dosi. Se questo non è efficace nei casi rari, una dilatazione e raschiamento, 10, può essere fatto per cancellare l'utero di tessuto. Quando necessario, una trasfusione di sangue viene utilizzato per ripristinare rapidamente il volume del sangue necessaria. Se è in trattamento per grave sanguinamento uterino, voi e il vostro medico può scegliere un trattamento che è sicuro per il lungo termine. Sanguinamento uterino in corso. La tua età, la causa della sua condizione, e gli eventuali piani futuri per la gravidanza avrà un impatto le scelte di trattamento disponibili. Se sei un adolescente, ci si può aspettare i periodi di diventare più regolare come il tuo corpo matura. Si può scegliere di aspettare e vedere se i periodi diventano più regolare. Se avete bisogno di cure, il medico può prescrivere progestinici o di controllo delle nascite pillole per regolare il ciclo. Se non l'ovulazione regolarmente, è difficile prevedere per quanto tempo il sanguinamento anormale durerà fino a quando non smettere di avere periodi completamente, meno pausa. Se avete bisogno di cure, il medico può dare la terapia ormonale, come la pillola anticoncezionale o un aiuto ormonale, per regolare il ciclo. Se non avete futuro fertile piani e hanno sintomi gravi, si può optare per il trattamento chirurgico per rimuovere l'utero, isterectomia, o per distruggere il rivestimento uterino, ablazione endometriale. Se si inizia l'ovulazione regolarmente, hanno sanguinamento anormale, e pianificare una gravidanza, in futuro, si rivolga al medico circa le opzioni di trattamento. A seconda della causa del sanguinamento, lui o lei può raccomandare trattamenti come progestinico o di controllo delle nascite pillole o una esteroscopia per rimuovere polipi o fibromi. Se non avete intenzione futura gravidanza, si può considerare l'ablazione endometriale o l'isterectomia se altri trattamenti non aiuta. Provoca sanguinamento uterino disfunzionale. Ci sono due tipi di sanguinamento uterino disfunzionale. Anovulatori non ovulazione, causata da un basso livello di progesterone. Progesterone è necessario per l'ovaio a rilasciare regolarmente un uovo, ovulazione, nonché per la regolazione sanguinamento mestruale. Bassa progesterone provoca sanguinamento mestruale irregolare e pesante. Questo tipo di sanguinamento uterino disfunzionale è comune prima dei 20 anni e dopo i 40 anni, per i meno pausa. Durante questo periodo di transizione dentro e fuori gli anni fertili, è normale per i livelli di progesterone per essere variabile. Ovulatorio. Ben il 10% delle donne hanno ovulazione sanguinamento uterino disfunzionale pur avendo normali livelli di progesterone e altri ormoni. In questi casi, nessuna causa ormonale o altro può essere trovato. Gli esperti non comprendere appieno questo tipo di sanguinamento uterino disfunzionale e le sue cause. Sintomi di sanguinamento uterino disfunzionale. Si può avere sanguinamento uterino disfunzionale se si dispone di uno o più dei seguenti sintomi. Sanguinamento mestruale che si verifica più spesso di ogni 21 giorni o più distanti di 35 giorni, un ciclo mestruale normale lungo 24 a 35 giorni. Sanguinamento mestruale che dura più di 7 giorni, normalmente 4 a 6 giorni. La perdita di sangue superiore a 80 ml ogni ciclo mestruale, normalmente circa 30 ml. Se si passa grandi coaguli o prendere un grande rilievo per ora per 8 ore, la sua emorragia è considerato pesante. Categorie di sanguinamento uterino disfunzionale. Sanguinamento uterino disfunzionale può essere suddiviso in 4 categorie, emorragia da sospensione di estrogeni, gli estrogeni emorragia da rottura, il progesterone emorragia da sospensione, e il progesterone svolta bleeding.4. Estrogeni emorragia da sospensione. Questo tipo di sanguinamento può verificarsi dopo oforectomia bilaterale, le radiazioni di follicoli maturi, la chemioterapia per il tumore maligno, o la somministrazione di estrogeni a una donna castrata seguita dall'interruzione della terapia. Macchie mid-chicle può verificarsi secondaria alla diminuizione di estrogeni che precede l'ovulazione. Estrogeni emorragia da rottura. Questo tipo di sanguinamento è un risultato della quantità di estrogeni che inducono l'endometrio. Bassi livelli di estrogeni risultato a macchia intermittente che può essere prolungato, ma di solito luce nella quantità di flusso. Alti livelli di estrogeni per periodi prolungati di tempo risultato di lunghi periodi di amenorrea seguiti da acuta, spesso pesanti, sanguinamento con eccessiva perdita di sangue. Progesterone emorragia da sospensione. La rimozione del corpo luteo, o di amministrazione e quindi l'interruzione del progesterone o di un non estrogenico risultato progestinico di sintesi in desquamazione endometriale. Per il ritiro progesterone sanguinamento a verificarsi, l'endometrie deve prima essere moltiplicate dagli estrogeni endogene o esogeni. Progesterone ritiro sanguinamento si verifica ancora se la terapia estrogenica è continuato dopo il progesterone è ritirata. Solo aumentato i livelli di estrogeni di 10 a 20 volte emorragia ritardo progesterone ritiro. Progesterone emorragia da rottura. Ciò si verifica con un anormalmente elevato rapporto di progesterone agli estrogeni. La terapia progesterone continua senza adeguati risultati di estrogeni nel sanguinamento di durata variabile come si vede in basso dosaggio di estrogeni svolta sanguinamento. Questo è il modello di sanguinamento che può essere visto con metodi contraccettivi solo progestinici lunga durata d'azione, come Norplant ed Epoprovera e la pillola anticoncezionale progesterone solo. Trattamento sanguinamento uterino disfunzionale. Il progesterone è stato dimostrato per aiutare a prevenire la crescita eccessiva dell'endometrio, che impedisce sanguinamento uterino disfunzionale. Utilizzare degli onlevonorgestrel, che rilascia un ormone sintetico progesterone lì che nell'utero. Questo riduce il sanguinamento durante prevenire la gravidanza. Trattamento ormonale. Un breve ciclo di terapia con estrogeni ad alte dosi è spesso usato per fermare le emorragie e pericolosamente pesante. Raramente utilizzato farmaci che bloccano la produzione di estrogeni e le immestruazioni, come gli ormoni di rilascio delle gonadotropine o danazzolo. Questi farmaci causano gravi effetti collaterali, ma sono usati in casi particolari. Chirurgia, come la dilatazione e raschiamento, 10, per il sollievo a breve termine di sanguinamento grave o ablazione endometriale per il sollievo a lungo termine di sanguinamento. In casi di grave sanguinamento uterino, trasfusione di sangue può essere utilizzato per ripristinare rapidamente il volume di sangue necessaria prima di utilizzare un trattamento a lungo termine. In casi incontrollabili di sanguinamento uterino, l'utero può essere rimosso. Chirurgia e opzioni di trattamento La chirurgia è generalmente riservato per il trattamento di sanguinamento uterino disfunzionale che non può essere controllata con i farmaci. Diagnosi La diagnosi di sanguinamento uterino anomalo è una diagnosi fatta per esclusione di uterina o di patologia medica. Il primo e più importante passo nel processo diagnostico è l'ottenimento di un esame fisico e una storia clinica dettagliata con una comprensione approfondita delle caratteristiche mestruali del paziente. Gli sforzi per quantificare la perdita di sangue mestruale da pazienti e medici hanno dimostrato di essere impreciso. Circa la metà delle donne di segnalazione eccessiva a perdita di sangue mestruale in realtà non hanno una quantità abnorme di sanguinamento. Trattamento Estrogeni Nei casi in cui il sanguinamento è stata prolungata e non vi è il tessuto sufficiente per l'azione progestinica, terapia estrogenica è indicato per causare la rapida crescita dell'endometrio. Un'ulteriore azione degli estrogeni è stimolare coagulazione a livello capillare. Agenti progestazional Nel periodo adolescenziale e per i menopausa, non è raro per le donne a entrambi non riescono a ovulare o di essere in grado di sostenere un adeguato funzionamento del corpo luteo. Il dispositivo progestinico intrauterina contraccettivo Il progesterone o levonorgestrel possono essere consegnati direttamente all'endometrio con dispositivi contraccettivi intrauterini progestinico contenenti Agenti antifibrinolitici Farmaci antifibrinolitici sono potenti inibitori di fibrinolisi ed hanno dimostrato di ridurre la perdita di sangue mestruale di ben il 50%. Questo trattamento è l'ultima risorsa per i pazienti con problemi di coagulazione.